La cooperazione e lo sviluppo soprattutto per la gestione delle risorse idriche ormai non può prescindere dal tenere presenti i cambiamenti climatici? Non c'è dubbio, bisogna tenere presente soprattutto il problema che dobbiamo realizzare una crescita sostenibile che è alla base degli obiettivi che erano stati fissati dall'Agenda 2030. Questo significa che la programmazione deve tenere presenti le buone pratiche, le esperienze positive ma adattarle poi ai singoli territori? Non soltanto questo, significa che non è sufficiente semplicemente per seguire l'obiettivo di un'acqua potabile, di un'acqua pulita, di un'acqua che possa essere messa a disposizione di tutti ma occorre anche qualche cosa di più perché occorre evidentemente salvaguardare la salute, occorre evidentemente superare le sacche di povertà che esistono questo è il concetto di sostenibilità che è un concetto trasversale a tutti i 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Lei ha fatto anche un accenno alle tariffe, le tariffe devono essere adeguate ai territori, alla situazione sociale ed economica delle persone? Ma non c'è dubbio, ho detto semplicemente che l'aria e l'acqua sono tutti e due degli elementi indispensabili però l'acqua è poca rispetto alle necessità e quindi se è poca bisogna trovare un sistema, studiare un sistema tariffario che tenga conto anche delle disparità che esistono in certe aree, in certe ragioni, in certe popolazioni.